Il commissario ha riconosciuto che la macchina organizzativa messa in moto dalla Toscana, se non è la migliore, è sicuramente tra le migliori che abbiamo in Italia. Io dico che il problema dei vaccini è solo che ce li mandino, perché noi siamo in grado di somministrarne quattro volte quelli che somministriamo ora. Devo dirvi che vi è una sensazione per me di profondo disagio quando vado a trovare i luoghi in cui medici e infermieri somministrano le dosi e capisco da loro che è una capacità di somministrazione un po' come una 500 rispetto al motore della Ferrari. Potremmo fare tre o quattro volte di più, ma mancano le dosi. Ora per fortuna incomincia con il governo Draghi ad avere un carattere prioritario, finalmente, che è la questione dei vaccini. Ad esempio domani arriveranno 40.000 dosi di AstraZeneca, nell'alto di due o tre giorni altre 30.000 dosi di Pfizer e quindi spero che la possibilità di somministrare possa avere un valso avanti.